Ammiraglia della casa cieca Skoda e capace di conquistare il cuore di oltre 700.000 clienti in tutto il mondo, la Superbe è realizzata sulla base dell'ormai famosa piattaforma modulare MQB del gruppo Volkswagen, la stessa che ha dato origine alla nuova Golf, per intenderci. La terza generazione si caratterizza per una ricerca spasmotica del comfort e dello spazio a bordo, con un passo aumentato fino a 2,84 m ed un bagagliaio dalla capienza compresa tra i 625 e i 1760 litri. A bordo si sta quindi larghi e comodi, e non mancano equipaggiamenti e caratteristiche tipiche di vetture di ben altro segmento e prezzo. Ecco dunque la climatizzazione a tre zone, il riscaldamento disponibile per tutti i posti a sedere, i supporti per smartphone e tablet e addirittura la app, che sfrutta la connessione ad internet di bordo per gestire i parametri del sistema multimediale. Su strada si fa apprezzare per la stabilità e il piacere di guida, per merito anche delle nuove sospensioni che permettono di variare diverse caratteristiche dell'assetto della vettura secondo le esigenze del guidatore e del tracciato. Buone notizie anche per quanto riguarda i motori, con l'introduzione delle nuove unità omologate a Euro 6 che permettono una riduzione dei consumi del 30%, mentre nel novero delle versioni disponibili non mancherà anche una variante dotata di trazione integrale 4x4. Con tutte queste novità e caratteristiche a disposizione sfidiamo chiunque a definire ancora la Skoda Superb una semplice ammiraglia low cost. Grazie a tutti!